Grazie, il mio nome per l'italiano è un po' difficile, ma per il croato è un nome normale, il mio nome è Hervoè. Sì, sono contento, io vedo che qua una squadra come famiglia, questo è importante per me, io sto trovando bene qua. Dopo Napoli non gioco sei mesi, perché è difficile per me, sei perché, ma questo è il calcio e io voglio restare l'italiano, questo non è successo. Quando Grotone chiama a me, io sei che io arrivo, aiuta la squadra in i nostri obiettivi. Fisicamente io sta bene, io qua 4-5 giorni, tutti gli allenamenti io con squadra e io penso che io sia pronto per la partita con Verona. Il Grotone ha iniziato per essere nel primo posto di classifica, ma adesso non dobbiamo penarci a prendere più punti possibili. Grazie.